Te l'avidenti, già marzo 6 di juni, un fece importante per il popolo di Aruba, con chi ha ganato, è un premio grande di Mini Mega Plus. Di modo di conoscere, è un premio che è da den, è da crescere e crescere. E noi stiamo a fare questa stappi, con la cara di lotteria di Aruba, e poi con noi un tiki arriva, è un premio di già marzo 6 di juni. Come vai? Feliz dia. Quando vai? Sì, già marzo 6 di juni, è un sorteo grande, noi stiamo in un sorteo di Mini Mega Plus, con una 2 milioni di flore in. Con 2 milioni di flore in, per esempio, è una realtà, è possibile, già marzo 6 di juni, 2 milioni di flore in, con Mini Mega Plus, con la costa solamente 6 flore in. E' una reazione, ma non è sempre, è grande. È certo, ma è un premio di spiegelare, ci sono persone che non conoscono di Aruba, non sono anche per la loro, ma non sono per la loro, però non sono per la loro, ma è lo che è importante. E' un grande istitato, la lotteria di Aruba, è una minuzione di Aruba, di sì, 1 milioni di flore in, un rito milionario, magari, è il caso di essere da settore 6 di juni. Ma è qui, è che è il primo premio? O ha fatto un primo premio? No, ma è qui, sì, ma è un primo premio a Sina Grande, sì, 2 milioni di florini però mi sento che il Giaranzon c'è un premio gordo si è corretto 4 florini su per tecate e per canele una summa di 625 mila florini quindi potremmo in acqua e poi potremmo in acqua per assinare il Giaranzon con l'Otto 5 se vuoi comprare varie ma se un solo viaggio non mi chiede vai bingas e gasolino esattamente sì ora si usi di multidraw perché ti ho 10 sorteio venidero che non mi sono la sua ora si usi di saci ora mi spito spica quando mi separo di rai c'è un sorteio per chiamarsi e già bella potrà passare 2 mesi che potete e ora potrà den venga ora per il prossimo dia sorteio non è sacchiamo è multidraw di spedibore benedope sacchim d'amaris e shonan bo sa qui den ti ho un secreto come ha descubri mi sta junto con Ronald van der Berg è secreto che ora con Ronald papia direttore di lotteria di Aruba e che ora che papia è premio e per se non so il pubblico e il pubblico chiede il premio 2 milioni continuo scuola buong Sì, Sibu. 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 Sibu.